Michele Di Grandi è sindaco di Teggiano, parte da Teggiano appunto la riscossa del Partito Democratico nel Valodiano e Napoli di Salerno? Penso proprio di sì, stasera è la prova che tutti quanti i quadri dirigenziali nazionali, europei e locali che vengono a Teggiano per fare un punto di riflessione, un momento di organizzativo di tutto il territorio. Basti pensare che insomma noi non perché vogliamo fare polemiche ma vogliamo incominciare a creare un progetto per il futuro che realmente guardi il futuro e che questo territorio abbia la stessa risonanza che hanno altri territori, rispetto di dignità di territorio. Penso in qualsiasi territorio abitano persone degnitose, persone che sono state eligi al proprio dovere, cittadini che hanno pagato le tasse e penso che ci è bisogno di una risposta. Ebbene questo è un momento di riflessione e che io ringrazio tutti i colori che stasera sono intervenuti e ringrazio i ragazzi dei giovani democratici che hanno avuto il coraggio di partire e organizzare questo evento a Teggiano per avviare questo momento di riflessione. Senatore Alfonso Andriè, il Partito Democratico si avvia a vivere una nuova stagione, è una domanda la mia. C'è stata una fase lunga di approccio con il corpo elettorale, innanzitutto con i cittadini e le cittadine di accreditamento, vorrei dire. Perché un'idea nuova ha sempre bisogno per potersi sedimentare e accreditare presso la pubblica opinione, di farsi conoscere e riconoscere. Certo, dopo il primo espluato delle primarie dove avevamo già un momento importante di riconoscibilità e di affidabilità e un dato elettorale significativo con il 2008, c'è stato come fisiologico che accade un momento di calo e adesso siamo in netta ripresa. Come sempre, e lo dimostra l'esempio di quest'oggi qui a Teggiano e a San Marco con la nascita di un circolo del Partito Democratico, il Partito intanto è in quanto nasca e si radichi dai territori e sui territori. Quindi questo è un esempio molto importante, per fortuna molto diffuso. Però questi requisiti, queste caratteristiche che rinveniamo qui a Teggiano sono particolari perché nasce da un gruppo di giovani, da un'iniziativa forte in cui questi giovani hanno creduto dal primo momento e adesso scendono sul territorio tra la gente a parlare con le cittadine e i cittadini, con i loro coetanei e con le persone di ogni età dei problemi del Paese, del Paese inteso come il loro centro di riferimento locale, ma anche del Paese con la P maiuscola, i problemi che affliggono l'Italia. E quindi come è giusto che sia, perché un partito deve essere filtro dei bisogni della società e deve essere in grado di interpellarne, di interpretarne le istanze e di tradurle poi in fatti concreti attraverso quel ruolo cui in qualche modo tutti facciamo riferimento come cinghia di trasmissione dei bisogni della società e tra la società e le istituzioni locali.